Lo sport è un laboratorio per sperimentare l'integrazione. Il calcio è il terreno in cui combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione. Immaginate una squadra composta da ragazzi di origine non italiana, giovani con esperienze di carcerazione e ragazzi provenienti da contesti sociali e ambientali non a rischio. Atletico diritti Insieme in una sola squadra Atletico diritti Posso blocare anche io? Importante è non giocare da solo. Atletico diritti Il calcio è un po' come la vita, no? Magari è un brutto fallo a qualcuno e quindi penalty, un cartellino rosso, questo succede anche nella vita, però uno può sempre rientrare e giocare meglio. Musica 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 Grazie a tutti.